Riapre il pubblico all'interno del Parco archeologico di Ostia Antica al Museo Stiense grazie a un finanziamento di oltre 3 milioni del Cipe, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. Alla cerimonia sono intervenuti il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, il Direttore Generale dei Musei Massimo Osanna e il Direttore del Parco archeologico di Ostia Antica Alessandro D'Alessio. I lavori giunti a conclusione si sono articolati in tre distinti momenti, l'adeguamento strutturale, l'allestimento e il restauro delle opere. Il casone del sale, l'edificio risalente al XVI secolo e già sede del Museo Ostiense, è stato aggiornato anche nella dotazione impiantistica, illuminotecnica e tecnologica, oltre che sul piano scientifico ed espositivo. La realizzazione del nuovo Museo Ostiense va ad aggiungersi alla serie di nuove aperture degli ultimi quattro anni, da prima la rinascita nell'ottobre 2021 del Museo delle navi di Fiumicino e la contestuale apertura in via continuativa da martedì a domenica dell'area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano, della necropoli di Porto all'Isola Sacra a Fiumicino e del castello di Giulio II Ostia Antica. Risale invece all'ottobre 2023 la rinascita del complesso della Basilica di Sant'Ippolito all'Isola Sacra a Fiumicino.